Un quartiere di 189 residenze asismiche costruito a Balsorano dopo il terremoto della Marsica del 1915 per accogliere i senza tetto, che a causa del tempo, dell'incuria e della mancanza di fondi, si trova adesso in uno stato di abbandono e di degrado che ha fortemente penalizzato tutto il centro storico. Le abitazioni cosiddette provvisorie, costruite con materiali e tecnologie identiche per tutti i comuni interessati dal sisma, chiamate comunemente baracche, nel tempo sono state per lo più abbandonate dalle popolazioni e hanno subito un deterioramento naturale, trovandosi attualmente in uno stato di degrado e di trascuratezza. La Regione Avruzzo, su input dell'amministrazione comunale del centro della Valle Roveto, intende avviare un progetto pilota finalizzato alla riqualificazione del quartiere Roma, incaricando all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale dell'Aquila di effettuare uno screening sugli 11.500 metri quadrati che ospitano 560 vani e proporre soluzioni di recupero. Una proposta di intenti su questo argomento è stata siglata a Palazzo Silone dall'assessore all'edilizia residenziale pubblica, Guido Quintino Liris, la sindaca di Balsorano, Antonella Buffone e l'Ater dell'Aquila. Stiamo dedicando molto all'edilizia residenziale pubblica, la cosiddetta edilizia popolare, e in questo caso stiamo prestando la giusta attenzione anche alla periferia. Balsorano ha una realtà che è comune a tante altre zone della Marsica, in particolar modo della Valle Roveto, che hanno subito il terremoto del 1915 e hanno costruito delle abitazioni post-emergenziali, così denominate, magari in gergo locale, baracche. La sindacchessa, il sindaco di Balsorano, ha espresso con attenzione, con grande volontà, con grande dedizione, il desiderio di voler riqualificare l'area. È un'area molto vasta, ripeto, molto impattante anche a livello negativo, perché ormai è deteriorata. La Regione, l'azienda e il Comune di Balsorano entro 30 giorni daranno vita ad una cabina di regia coordinata dalla Regione stessa per la realizzazione del progetto e l'elaborazione dei programmi e le proposte per la progettazione e realizzazione dell'opera, nonché per regolare i tempi d'esecuzione.